Il corso delle vostre cosiddette riforme, legge elettorale, riforme costituzionali, una riforma della PIA che demolisce il principio costituzionale dell'imparzialità, una riforma della scuola che si realizza con la figura del loro solo a comando e con la sterilizzazione dei principi e dei valori costituzionali. La riforma costituzionale è un po' la linea del PIA, sulla quale però si può arrestare questo processo. Voi oggi pensate di aver vinto, ma ricordatevi che ogni volta che il povero è stato chiamato ad esprimersi su riforma di tal fatta le ha respinte. Anche questa volta il referendum non sarà una passeggiata.